Lega Serie A presents Serie A Team Ecco il calendario delle partite di questo episodio. Andiamo a vedere quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Anteprima della partita Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. In grafica possiamo vedere le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Ecco Ariane Robben pescato dalle nostre telecamere. Sta pensando forse al ritiro. Oggi intanto però gioca dall'inizio. Sale da febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio. Ancora pochi istanti e si comincia. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla accanto a me Stefano Nava. Amici da casa è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Sarà una partita tutta da seguire Stefano. Vedremo come l'affronteranno le due squadre. Se sceglieranno di adottare un approccio più prudente almeno all'inizio. O se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. O se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Formazione di casa che scende in campo con questi undici Hanno scelto di giocarsela con questo 4-4-2 a trazione decisamente anteriore Mi piacciono le squadre che hanno coraggio Che preferiscono rischiare qualcosina in più Per poter a casa il risultato Pubblico di Ferre Viola è rimasto sempre molto vicino alla squadra Ha mostrato grande attaccamento anche nei momenti più difficili Penso alla ripartenza dalla Serie C dopo il fallimento Speriamo che quest'anno il loro sostegno venga premiato con delle belle soddisfazioni L'undici titolare con cui scende in campo la Fiorentina All'allenatore che ha scelto di partire con 3-5-2 per irrobustire il centrocampo Modulo particolarmente versatile Può cambiare in cosa spostando un paio di pedine Si comincia Robert veniva dato tra le stelle del match alla vigilia Si dice che abbia riuscito di smettere col calcio giocato a fine stagione Una decisione che ci può stare vista anche l'età del ragazzo Vero Stefano? L'età sicuramente influisce però finché il fisico regge e soprattutto finché si è disposti a sacrificarsi per raggiungere certi risultati Non vedo perché non si debba andare avanti Penso per esempio a gente come Totti o Buffon Arrivati in splendida forma la soglia dei 40 Cervigno Occhio al pallone per Robben Era in ottima posizione per battere il portiere ma non ha saputo approfittarle Risultato che rimane sullo 0-0 Segnare dopo pochi minuti avrebbe potuto dare la svolta al match Almeno dal punto di vista psicologico Anche se manca ancora un'eternità da giocare Sofjan Amrabat Entra in campo con il numero 78 Erik Pulgar Crossa nel mezzo Attento qui il difensore che allontana Nessun problema qui per Sirigu E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi 0-0 alla fine dei primi 45 minuti Quali sono Stefano le tue impressioni su questa prima metà di gara? E' una partita interessante Decisamente La due squadra è molto attente e concentrata Secondo tempo che ha avuto dunque inizio con la Fiorentina in possesso palla C'è spazio per lui Cutrone E la messa Gesto tecnico spettacolare Conclusione al volo perfetta Per tecnica e coordinazione Gol che stiamo rivedendo Hanno soppreso la difesa mettendo palla in mezzo con questo cross Ha poi tentato la volley E ne è uscita fuori una conclusione svirgolata Che ha ingannato comunque il portiere Ecco la reazione del tecnico alla conclusione Che regala il vantaggio alla propria squadra C'è una notizia importante di mercato Stefan De Frey è passato al Manchester United Dall'Inter Una mossa tattica Il tentativo di riaprire la gara C'è chiaramente fallo Si gioca per il vantaggio E c'è la conclusione Occhio all'avanzata dei viola Cervigno Accalciato con forza dalla media distanza Sfiorando il palo Tiro che aveva dato l'illusione del gol da qui Ha poco da rimproverarsi L'allenatore non si dà pace Per questo errore Stefano come vedi la prossima gara della Fiorentina Avrà di fronte il Sassuolo Nel prossimo incontro valido per la Serie A I padroni di casa si preparano al cambio Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione A metri per andare Può mettere da lì E c'è il gol di Ola E adesso che lo rivedo Mi sento di assolvere il portiere Pierre Poteva fare davvero poco Su questa conclusione Distanza troppo ravvicinata Sarebbe servito un miracolo Per impedire la palla di entrare Basta così Dice l'arbitro Successo importante negli ospiti Vittoria di misura Hanno ottenuto il massimo Col minimo sforzo Andiamo a vedere insieme I dati della partita Ecco il possesso palla delle squadre I tiri totali verso la porta I falli commessi E infine le valutazioni dei giocatori Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande Grazie per aver guardato di rispondere alle nostre domande Grazie per aver guardato di rispondere alle nostre domande L'abbiamo finito, grazie di nuovo! Risultati e classifica della giornata Statistiche giocatori Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist men Queste sono le principali notizie della giornata Giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi Questo giocatore sarà squalificato nella prossima partita Posta in arrivo Giocatori ceduti dalla società Anteprima della partita Queste sono le formazioni delle squadre che scenderanno in campo Tutti gli occhi sono su questo calciatore Ha annunciato che lascerà il calcio a fine stagione Oggi intanto gioca da titolare Match che seguiremo rigorosamente in diretta Qui su EA Sports Per la sera di oggi Siamo in una delle città più belle del mondo Firenze Nella culla del rinascimento Appassionati di grande calcio Un saluto La Pieroggi Barra è stata ronava Ovviamente Rimanete con noi Non cambiate canale Per i palati calcistici davvero più raffinati Benvenuti oggi Propone un match straordinario di Serie A Protagonisti del match di oggi Fiorentina e Sassuolo Pronti per questo match di campionato Che promette grandi cose O almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi Ovviamente ce l'auguriamo anche noi Piazza Cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Per i palati calcistici davvero più raffinati La Fiorentina sarà fondata il 29 agosto 1926 Dal marchese Luigi Ridolfi Vai da Verrazzano Nella sua storia ha conquistato due scudetti Sei Coppa Italia Una Supercoppa italiana In campo internazionale è stata la prima squadra italiana A vincere una competizione UEFA La Coppa delle Coppe nella stagione 60-61 L'undici titolare con cui scende in campo la Fiorentina L'allenatore ha scelto il 3-5-2 Per infoltire il centrocampo Senza però sacrificare le due punte I due esterni possono alzare o abbassare il loro raggio d'azione Trasformarsi di fatto in due difensori O due attaccanti aggiunti Sassuolo che si schiera in campo con questa formazione Hanno deciso di stirarsi in campo col 4-5-1 Ma con ispirazione offensiva E gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo Pallone per la Fiorentina per questo inizio del match È stato al centro dell'attenzione nei giorni precedenti della partita I post sui social a testimonianza di quanta attesa ci sia per la sua prestazione Le voci sul suo possibile ritiro a fine stagione si rincorrevano già da tempo E adesso è arrivata la conferma alla parte del diretto interessato È una perdita importante per lui e per il calcio in generale Un professionista esemplare che ha sempre dato tutto in campo Purtroppo però arriva il momento in cui bisogna Non può fallire, attenzione Ma che gol ha fatto? Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere Rivediamo l'azione di poco fa Tra me sono al centro Da cui è scaturito il gol Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere Non poteva fare molto da quella distanza La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione Sollievo dell'allenatore per la rete del vantaggio Ma la partita non è finita, attenzione Possono trovare il gol del pari, attenzione Avvio di match scoppiettante Non siamo nemmeno a metà primo tempo E entrambe le squadre hanno già trovato il gol Pareggiano i conti con questo gol E l'impressione che ne vedremo degli altri Per come si è messa la partita C'è ancora molto da giocare Ripartenza micidiale L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere E non ha sbagliato Ha sfruttato la perfezione La chance che gli è capitata Bravo Occhio al cross in mezzo Ha mancato il bersaglio di Parecchio Da qui la sua parziale scusante Va detto che c'era pressing su di lui Non ha potuto girarla come avrebbe voluto Difficile fare meglio, credimi Occhio all'avanzata dei viola A metri per andare E la messa Gesto tecnico spettacolare Conclusione al volo perfetta Per tecnica e coordinazione Cross davvero perfetto Come evidenziato anche dal replay Ha raccolto il suggerimento del compagno E l'ha messa dentro Da distanza era avvicinata Possiamo apprezzare meglio il gol Visto anche da un'altra prospettiva Corner battuto corto Non è finita Hanno riaperto la partita Col gol del Parecchio Rivediamo il replay del gol Ha sfruttato la perfezione Il passaggio all'indietro del compagno E non ci ha pensato su due volte E poi infilato il portiere Con questa conclusione secca A filo d'erba Reazione stizzita Ma composta Del tecnico a bordo campo Dopo il gol del Pari Qualcosa da rivedere Fosse in difesa La notizia del suo possibile arrivo Circolava già da parecchio tempo Sembravano classiche speculazioni di mercato Invece tutto vero L'arbitro dice che può bastare 2-2 al termine di un bel primo tempo Ha giocato davvero bene Nei primi 45 Vedremo se si ripeterà Sugli stessi livelli Ha già messo a segno Una doppietta E vorrà migliorare Il suo score personale Nella ripresa Magari Per dare la vittoria Alla sua squadra Fin qui bloccata sul pari È tutto pronto Comincia il secondo tempo Gara in casa per loro Come sempre sui esports Come tutti gli incontri Del resto del campionato italiano Buona l'idea qui Berardi Cambia dunque il risultato Col gol del vantaggio Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi In contropiere Stefano E questa piera è un'analisi tattica perfetta Condivido tutto quello che hai detto A regia ci mostra il replay Il gol da un'altra inquadratura Ha sfruttato bene l'assist all'indietro del compagno Situazione di due contro uno Che ha poi permesso di infilare il portiere È lasciato solo nella circostanza L'allenatore non ha preso bene Gol scaturito dall'ultima azione Ora sono sotto E dovranno darsi da fare Per rimontare lo svantaggio Ha disputato una gara eccellente Come la previsione E merita questa standing ovation Da parte dei suoi tifosi Filo completamente fuori misura Cerca l'imbucata per il compagno Si rigore e pigia Palla ancora buona Buona qui la lettura del difensore Arriva il fischio finale Che sancisce la sconfitta dei padroni di casa Hanno fatto una prestazione Meno brillante del solito Eh sì In altre occasioni sarebbe bastato Eh loro poco Per trasformare questa sconfitta In almeno un pareggio Oggi però Non ce l'hanno fatta No Ha disputato una partita eccezionale Una grande gara Ha dato un contributo decisivo Alla sua squadra Per il successo Con una splendida doppietta Promosso Andiamo a vedere insieme I dati della partita E le valutazioni dei giocatori Grazie mister È un piacere averla I nostri microfoni Come andiamo a vedere insieme liberiamo il mister è tutto grazie questi sono i risultati delle partite e la classifica della competizione statistiche giocatori vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist men in grafica possiamo vedere le principali notizie della giornata giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi queste sono le formazioni delle squadre che scenderanno in campo per la sera di oggi siamo in una delle città più belle del mondo firenze nella culla del rinascimento un caloroso benvenuto da giro in cibardo in compagnia come sempre di stefano nada torna la serie a con questo incontro che promette la vera emozioni e spettacolo match che promette gol e spettacolo pronti per questo match di campionato che promette grandi cose o almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi e ovviamente ce l'auguriamo anche noi chiesto cosa siamo qui a fare noi vogliamo spettacolo con il numero 34 Sofian Amramat Sofian Amramat Sofian Amramat Sofian Amramat L'undici titolare con cui scende in campo la Fiorentina partono dunque con il 3-5-2 che ne dici Stefano? è sicuramente un modulo buono per ogni stagione che può trasformarsi facilmente alzando o abbassando gli esterni di centrocampo a seconda se ci sia bisogno di maggiore spinta o di maggiore copertura La Fiorentina ha vissuto annate così così c'è stato poi il fallimento, la rifondazione il cambio di nome in Florenzia-Viola la ripartenza con la famiglia della Valle buoni risultati è mancato il vero e proprio salto di qualità hanno riportato entusiasmo in una piazza come quella di Fiorentina è mortificata dopo il fallimento guidando la risalita dei club fino al ritorno nella massima serie è tutto per ora buon match a tutti ecco la formazione della squadra ospite l'allenatore ha deciso di schierare in campo la propria squadra oggi col classico 4-3-3 il tridente è composto da una punta centrale da due esterni offensivi che di solito partono larghi per accentrarsi e andare alla conclusione o puntano verso il fondo per crossare in mezzo è una delle stelle in campo a quest'oggi è uno che si destreggia alla grande sia nello stretto che in campo aperto quando parte palla al piede diventa inarrestabile conclusione intercettata attenzione perché è pericoloso arbitro che concede il vantaggio hanno trovato il go del vantaggio vedremo come cambierà il match da vedere se proveranno a spingere per farne un altro se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi un bel gol realizzato con quello che è il suo piede debole non era per niente una conclusione semplice ma se l'è cavata egregiamente la regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione è costretto dunque ad abbandonare il campo per l'infortunio rimediato un cambio forzato che potrebbe scompaginare i piani del tecnico può ricevere una posizione interessante ecco il tiro Robben occhio da lì è arrivato dunque il gol del pareggio e queste le immagini del gol arrivato al termine di un possesso palla prolungato ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito comprensibile qui la gioia del tecnico per il gol del pareggio e si chiude così il primo tempo 1-1 la sua prova fin qui è sicuramente al di sotto delle aspettative troppa pressione partita davvero indecifrabile la sua mai nel vivo del gioco spesso ignorato dai compagni è poco reattivo quelle poche volte che ha avuto palloni giocabili così non va c'è il segnale dell'arbitro comincia il secondo tempo la tiene lì di forza palla che termina largamente sul fondo male qui il portiere regala palla agli avversari attenzione passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere considerando quanto manca da giocare si viene riproposto il gol davvero incredibile quello che è successo Stefano potere la combinata grossa qui regalando di fatto il gol anche questo fa parte del calcio gol che ci viene mostrato da altra angolazione l'allenatore non ha preso bene gol scadulito dall'ultima azione ora sono sotto e dovranno darsi da fare per rimontare lo svantaggio e ecco con l'aiuto della regia il match che attende i padroni di casa nel prossimo turno di Serie A corner in aria il riflesso di Sirigu palla sopra la traversa palla in out altra possibilità dalla bandierina la mette in aria pallone gestito male qui e l'arbitro dunque riesce a ringraziarlo niente cartellino ma il prossimo fallo scatterà di certo il cartellino la parata grandissimo intervento momento chiave grande parata nel portiere ha reso semplice per bravura e tecnica una parata difficile non è mai facile parare un rigore e lui si è riuscito il rigore è sempre una guerra di nervi questa volta il portiere ha vinto la battaglia la mette in mezzo si porterà più due con questo gol un margine abbastanza rassicurante ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta hanno un discreto vantaggio da gestire questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa rivediamo il gol tutto nato da questo tiro dalla bandierina un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere la regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura l'allenatore sembra ormai aver abbandonato l'idea di poter a casa la vittoria c'era fallo ma si gioca per il vantaggio giusto non interrompere l'azione qui gran palla in mezzo e la tessa ha finalizzato la perfezione un grande contropiede attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito ecco il gol vediamo anche da quest'altra angolazione l'allenatore vuole cambiare qualcosa grande sicurezza la parte del portiere efficace la sua presa pezzella arriva il fisco finale che sancisce la sconfitta dei padroni di casa e questo è un K.O. pesante hanno sbagliato completamente l'approccio nelle prossime ore servirà un'analisi lucida per capire che cosa non ha funzionato buona oggi la sua prova tra i migliori in campo della sua squadra ha contribuito al successo finale con una buona prestazione con un gol di sconfitta e i valutazioni giocatori dati della partita e valutazioni giocatori Anzitutto la ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist men. Vediamo le principali notizie della giornata. Vediamo le valutazioni della nostra squadra. Le reti fatte, la media a voto dei giocatori e tutti i cartellini. Grazie per la visione! Grazie per la visione!